Sarà una stagione teatrale ricca di emozioni quella che prenderà il via il 27 novembre 2019 al teatro dei Filippo di Agropoli. Si tratta della quinta stagione del teatro agropolese portata avanti nel segno della comunità. Di anno in anno è sempre maggiore il successo e notevoli sono i consensi raccolti da un pubblico sempre più numeroso ed esigente. Anche quest'anno, spiegato il sindaco Adamo Coppola, nel nostro teatro andranno in scena spettacoli di grande interesse con artisti di fama nazionale che sapranno far riflettere e divertire. Siamo giunti ormai alla quinta edizione ed è per me motivo di orgoglio sapere che mentre in altre parti d'Italia i teatri chiudono, il nostro è sempre più apprezzato e seguito. Ringrazio la proficua collaborazione, il direttore del teatro pubblico campano Alfredo Balsamo e il direttore artistico Pierluigi Orio. Siamo pronti, dichiara il direttore artistico del De Filippo Pierluigi Orio, ad una nuova stagione teatrale, la quinta nel segno della continuità e con standard qualitativi sempre molto alti. Ci sentiamo per questo motivo felicemente artefici e partecipi della crescita culturale non solo della città di Agropoli ma anche del comprensorio cilientano. Come negli scorsi anni riserveremo alcune poltrone gratuite per ogni spettacolo della stagione ai ragazzi delle scuole superiori. Ma non ci fermeremo qui, conclude, vorrei che i ragazzi frequentassero il più possibile il teatro e dunque anche quest'anno proporremo per loro i corsi di dizione e recitazione in progetti di alternanza scuola-lavoro. Si prepara per il De Filippo, ha dichiarato Sergio Di Fiore, un'altra bella stagione teatrale con spettacoli di qualità. Speriamo di avere ancora maggiore riscontro rispetto agli anni scorsi. Tra le novità, sei degli otto spettacoli proposti in cartellone vedono la presenza di protagonisti del panorama nazionale che mai sono stati ad Agropoli. La maggioranza degli spettacoli si svolgerà il mercoledì e solo in un caso il martedì. C'è sempre uno sguardo ai giovani under 30 per avvicinarli al teatro con l'intero abbonamento che prevede un costo calmirato di 140 euro. La campagna abbonamenti è già aperta. Gli abbonati della scorsa stagione possono confermare il proprio abbonamento esercitando il diritto di prelazione fino a domenica 15 settembre telefonando al numero 324 78 79 696. I nuovi abbonati possono prenotare l'abbonamento al 324 78 79 696. Questi i prezzi per l'abbonamento agli otto spettacoli. 240 euro poltronissima, 200 euro poltrona, 140 euro poltroncina e giovani under 30. I prezzi sono compresi di diritti di prevendita. Il programma completo per quanto riguarda gli spettacoli. Mercoledì 27 novembre alle ore 20 e 45 Lello Arena con lo spettacolo Miseria e Nobiltà. Mercoledì 11 dicembre alle ore 20 e 45 Nancy Brilli andrà in scena con A che servono gli uomini? Mercoledì 18 dicembre sempre alle ore 20 e 45 in scena Carlo Bucci Rosso con lo spettacolo La rottamazione di un italiano per bene. Mercoledì 22 gennaio alle ore 20 e 45 Leo Gullotta si esibisce sul palco delle Filippo con Pensaci Giacomino. Mercoledì 12 febbraio sarà la volta di Silvio Orlando con lo spettacolo Si nota all'imbrunire. Mercoledì 4 marzo torna anche quest'anno Viaggio Izzo con lo spettacolo Tartassati dalle tasse. Mercoledì 11 marzo invece sempre alle ore 20 e 45 sarà la volta di Gigi e Ross noti conduttori del fortunato programma Made in Sud con lo spettacolo Andy e Norman. Martedì 7 aprile alle ore 20 e 45 Geppi Gleieses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo andranno in scena con lo spettacolo Così Parlò Bella Vista.